Bene, quest'oggi vi voglio mostrare le condizioni dell'ospedale Fratelli Crobu di Iglesias. Un luogo davvero dimenticato, come suol dire, da Dio e da chiunque possa esistere. È un posto bellissimo, spettacolare. Non è stato fortunatamente vandalizzato dai più e quindi c'è un po' di timore anche perché abbiamo sentito dei rumori strani, effettivamente sbattere porte e quant'altro. Adesso proseguiamo. Il paradosso è dover assistere veramente all'abbandono di tutti questi ausili medici. Stiamo parlando di carrozzine che comunque potrebbero essere ancora adoperate ma sicuramente non lasciate in questo stato. in uno stato di degrado, di incuria, abbandonate ai più. Perché chiunque davvero può accedere all'interno di questa struttura abbandonata e fare davvero di tutto e di più. Stiamo parlando di sanità, stiamo parlando comunque di un luogo di degenza, di un luogo dove non soltanto i piccoli pazienti venivano curati ma chiaramente anche di uno staff medico inferministro che lavora. Questo è veramente uno spreco all'italiano. Ci sono lunghi corridoi ancora pieni di attrezzature, armadi, cartelle, scafalature e potete vedere che ancora sedie all'otel anche qua all'interno. Ed all'ospedale Fratelli Croovo di Glesias con questo triste scenario per ora.